una profonda ed elegante riflessione sulla connessione che abbiamo col mondo col tempo con quello che ci resta da fare oggi parliamo di living film del 2022 per la regia di oliver hermanus e questo è cinerola podcast nel 1886 veniva pubblicato per la prima volta la morte di ivan ilic racconto ritenuto fra i migliori di lev tolstoi che ispirerà a vivere film del 52 diretto da akira kurosawa sceneggiato da shinobu ashimoto insieme a ideo oguni e kurosawa stesso l'opera di hermanus è un remake dell'originale del 1952 adattato nell'ambientazione di cui conserva in larga parte lo spirito la prima del film è stata al sundance film festival nel gennaio del 2022 per poi essere presentato fuori concorso alla 79esima mostra internazionale d'arte cinematografica di venezia uscito nelle sale italiane a ridosso dello scorso natale ha trovato poco riscontro ma è tornato alla ribalta per la doppia candidatura agli oscar 2023 migliore attore protagonista per bill nye e miglior sceneggiatura non originale per katsuo ishiguro premio nobel per la letteratura 2017 il signor williams grigio burocrate in un ufficio ministeriale della londra post bellica conduce una vita ordinaria e incasellata nella routine dei suoi giorni gli spostamenti da pendolare i colleghi la famiglia che gli resta dopo la morte della moglie un giorno scopre l'amara verità sulla sua salute ed apprende che gli resta poco da vivere il trauma della scoperta sarà la motivazione per mettere in discussione tutta la sua vita a cominciare dalla cosa più difficile da fare in questi casi trovare un punto da cui partire è importante sottolineare innanzitutto la forte connessione col capolavoro di kurosawa non solo per la messa in scena ed il ricalco citazionista di alcune sequenze ma soprattutto per la forte connessione tra l'opera originale e lo sceneggiatore ishiguro di origine chiaramente giapponesi ma di formazione solidamente britannica tanto da rinunciare alla cittadinanza nipponica per quella inglese la profonda comprensione dell'opera di kurosawa da parte di uno sceneggiatore che accontezza della cultura giapponese ha permesso un adattamento coerente mutuando motivazioni e sensazioni sapendo cosa omettere e cosa tenere per rendere il messaggio del film non solo più occidentalizzato ma per certi versi anche più moderno e universale dopo tutto larga parte della riuscita di questo film è merito della scrittura affidata ad un maestro che ha più di una buona esperienza col cinema dai suoi romanzi sono stati tratti quel che resta del giorno del 93 di james ivory e non lasciarmi film del 2010 di mark romanek l'altra parte del merito è invece nella recitazione il giovane signor wickling è interpretato da alex sharp già visto nel recente processo ai chicago seven che rompe il muro della promessa e si dimostra un attore talentuoso emotivamente coinvolgente e versatile la faccia da schiaffi del pittoresco commediografo signor sutherland è quella di tom burke l'horso wells in monk di david fincher e direi che non serve aggiungere altro l'assoluto protagonista che permea la scena sia quando è in campo che quando non lo è è un bill nye in stato di grazia che la metà basta che fosse un fuoriclasse non si è mai dubitato ma qui da sfoggio di una vena malinconica ricoperta da una patina di impenetrabilità così squisitamente british che lo rende scostante ed ammaliante allo stesso tempo è puro in così tanti sensi da rendere facilissima l'identificazione dell'attore col personaggio e la sua maturazione compatibilmente con i tempi di un film è lineare e progressiva segno di una grandissima attenzione data alla psicologia del protagonista in fase di scrittura sul versante tecnico ciò che arriva subito è la qualità della fotografia opera di jamie d ramsey già collaboratore del regista che in sinergia col montaggio definisce le sequenze o atti in coesione di colore e calore rendendole identificabili immediatamente ed aiutando il viaggio dello spettatore nelle emozioni del protagonista la regia ha senza dubbio dalla sua l'eleganza il tratto calligrafico che si sforza per tutto il tempo di non trascendere nello stucchevole lasciando la giusta semplicità alle sequenze discorsive e azzardando quando deve nei frangenti più significativi senza però anche questa volta mai strafare il ritmo del film è altalenante anche se in vero mai lento e ciò è dovuto verosimilmente ad una scelta registrica precisa quella di suddividere il film in mini atti unici ben collegati da logica e narrativa che letteralmente sono quadri dello stesso soggetto ritratti in giornate diverse ovviamente diversi ma se accostati l'uno all'altro raccontano una storia coerente e commovente sforzandosi di non scadere nel melenzo però il regista dimentica qualche eccesso retorico soprattutto sul finale dall'eco di kenziano salvo poi ritornare bruscamente alla realtà cinica e brutale stride è vero ma è anche la cifra dell'opera che omaggia i suoi illustri predecessori da kurosawa a tolstoi la candidatura all'oscar per questo ruolo consacra la meravigliosa carriera di bill nye con un film che in tutto e per tutto la sua persona quattro ciacchini per un piccolo gioiello di eleganza e scrittura una storia semplice dalle ascendenze aristocratiche che parla di un aspetto dell'umanità particolare e dallo stesso tempo incredibilmente universale siamo arrivati alla fine di questo episodio vi ricordo che cinerola podcast torna ogni martedì e giovedì con una nuova recensione su spotify youtube e tutte le principali piattaforme dalle ore 14 e ogni domenica alle 8 c'è l'appuntamento settimanale con il poddi rotten restiamo in contatto usando telegram instagram facebook e tutto il cucuzzaro trovate i link nei rispettivi info box dal vostro cristiano d'alianera per oggi è tutto vi raccomando di non fare nulla che io non farei e ci sentiamo presto prestissimo un abbraccio forte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti